La festa patronale Accorato assume un significato diverso, ma più di tutto una scenografia diversa. Il famoso tempio che viene eretto per poter stazionare la statua per i famosi tre giorni della festa. Ma Accorato si dice la macchina, perché? La macchina perché appunto come hai detto si tratta di un tempio di San Cataldo in cui il santo praticamente incontra la popolazione, incontra il popolo, essendo questa una festa popolare. E la macchina di San Cataldo è uno dei topo, si chiamavano così, delle celebrazioni, della festività di San Cataldo. Questa sera è la sua festa, ma questo onore a San Cataldo? La mia, la mia di tutto Corato. Quanto è importante questa festa? È importante perché la festa è di tutto Corato, non solo i Cataldi, ma tutto Corato. È importante la festa a Corato, questa festa. Perché? Che cosa le ricorda? Vabbè, da piccola infanzia era anche diverso San Cataldo di prima. Prima la festa era più bella, più povera era la gente, era più bella. Adesso non lo so, non lo so che va così. Com'è la festa quest'anno? Quest'anno com'è la festa? Va bene, è lo stesso. Abbiamo visto la processione quando è uscita dalla città. Quanto è importante la fede per il santo patrono? Certo che è importante. Bisogna però vedere altro, quello che ci circonda. I Coratini sono dei buoni gustai, amano molto il torrone, le mandorle zuccherate, il croccante caramellato. Sono dei buoni clienti, amano questo dolce. Viva le feste patronali! Viva, viva, viva le tradizioni! Grazie a voi, grazie per quello che fate, grazie. La promessa è che abbia cura di tutti i cittadini e ci protegga per la campagna perché abbiamo tanto bisogno di acqua. Quanto è importante questa festa? Beh, importante proprio non è perché, insomma, si può anche poterlo fare a meno volendo, però è una tradizione, una tradizione. Signora, quanto è importante? Per me è importante perché è il nostro patrone del paese. Ma è cambiata questa festa negli anni? Adesso è più bella? Boh, sembra, in giomma, sembra più bella. Non solo cultura, ma soprattutto fede, la festa patronale. Gerardo Strippoli, per la Proloco, per la città, che significato? Assolutamente, è una tradizione antichessima e noi ci teniamo tantissimo a salvaguardare le nostre tradizioni, le nostre radici. Chiaramente è un patrimonio culturale, sia materiale che immateriale e quindi non possiamo fare altro che sostenere la festa di San Cataldo, del nostro santo patrono. L'esperto in vernacolo, quale lo è lei? Un aneddoto, quindi una frase storica per questa festa? Beh, sicuramente legata, appunto, alle bancarelle che sono una delle, diciamo, prerogative fondamentali della festa di San Cataldo. E quindi a San Cataldo non è un po' di mangiare, non è un po' di mangiare, non è un po' di mangiare. Grazie a tutti.